SEMBRA CHE Siamo già pronti per partire! Peccato non ci sia stato altro tempo per lanciare incantesimi. Spero ti sia allenato con quelli che ti ho mostrato. Sì, professore. Beh, non ho mai visto nessuno abituarsi così in fretta a una bacchetta di seconda mano. Quando avrai la tua, non sarai da sottovalutare. Grazie, professor Figg. Il suo aiuto prima dell'inizio dell'anno è stato... Oh, Eliasar! George! Per fortuna la mia descrizione criptica non ti ha scoraggiato dal cercarci. Mi sono materializzato in destinazioni più vaghe di questa. Però ho commesso un piccolo errore di calcolo al primo tentativo. Il pubblico di un certo teatro si è spaventato molto. Non ci vediamo da troppo. Quando è arrivato il tuo gufo, ho pensato... Meglio non parlarne qui, Eliasar. Ma certo. Discutiamone durante il viaggio per Hogwarts. Ci attendono un banchetto e una cerimonia di smistamento. Ottima idea! A meno che al tuo nuovo pupillo non dispiaccia la mia presenza. Niente affatto, signore. Dopo di te. Non torno al castello da secoli. Credo che sarà bello rivedere quell'ammasso di rocce. Non torno al castello da secoli. Non torno al castello. Per fortuna ti ho incontrato prima della partenza. Giusto il tempo. E chi sarebbe il tuo compagno di viaggio? Un nuovo arrivo. A scuola? Sì, inizierò la scuola dal quinto anno. Straordinario. Indubbiamente. Nessun docente ha mai sentito di una missione a Hogwarts così tarda. E nemmeno io. Infatti, siccome gli studenti del quinto anno affinano le loro abilità da anni, il preside mi ha chiesto di mettere in pari questo nuovo arrivo prima del trimestre. Beh, non potevi avere un mentore migliore. Il professor Figg non è solamente un ottimo insegnante, ma è anche un mago estremamente intuitivo e molto dotato. Il signor Oswick è un adulatore nato, il che in parte spiega la sua brillante carriera al ministero. Hai letto questo? Sì, l'ho letto. Non tutti concordano sulla pericolosità di Runrock. Devo ancora convincere i miei colleghi al ministero, ma sono convinto che si tratti di una minaccia molto grave. Ed è... È stata tua moglie, Eliazar, che mi ha avvisato su di lui mesi fa. Miriam. Ma come? Mi ha scritto di Runrock prima di morire. Si chiedeva se il ministero sapesse delle sue attività. Prima di poter rispondere, ho ricevuto questo. Poi non mi ha più inviato nient'altro, Eliazar. L'ha portato il suo gufo, ma senza una lettera. Posso solo presumere... Che se ne sia liberata in fretta. Per proteggerlo. Probabilmente da Runrock. Non posso aprirlo. È protetto da un incantesimo davvero molto potente. Sembra un metallo goblin. Quel simbolo. Cos'è quel bagliore? Quale bagliore? non lo vedo. Per la barba di Merlino. Ma come hai... Aspetta... Non so... Aspetta... Non so... Somma! La chiave! Dammi la mano! Va tutto bene? Sei ferito? Solo un poco. Tieni. Ti rimetterai subito. È una pozione rigeneratrice. Cos'è successo? Povero George. Non ci credo che... Che diavolo gli è preso a quell'affare? Attaccare una carrozza in volo? Un drago normale non lo... Professore... Signore! Dove siamo? Non ne ho idea. Ma quella che hai trovato è una passaporta. Passaporta? Un oggetto magico che porta chi lo tocca in un posto specifico. Ora mi sento meglio. Vuole dare un'occhiata in giro? Lo farò. Ma restami accanto. Non sappiamo chi ha creato la passaporta. O perché. Dove ci ha portato la passaporta? Molto più lontano del viaggio in carrozza. Siamo nelle Highlands scozzesi. Signore, quelle rovine. Che la passaporta servisse a portarci proprio qui. La nostra giornata non è andata secondo i piani. Ma Miriam ha dato la passaporta a George per un motivo. E credo che lei e George siano morti mentre cercavano ciò a cui la passaporta ci ha condotti. Se mi assicuri di sentirti bene e non ti dispiace assecondarmi... Vorrei dare un'occhiata in... Certo, signore. Bene. Vediamo se riusciamo a trovare un sentiero anche se abbandonato. Fa' attenzione. La passaporta che ci ha portati qui, dove l'avrà trovata sua moglie? Ottima domanda. Per anni Miriam ha cercato le prove dell'esistenza di una forma perduta di magia antica. Magia antica? Sì, una magia potente che pochi sanno usare e che sembra essere stata dimenticata. Il castello di Hogwarts è stato costruito da quella magia antica e ne è un baluardo. Non so come si è entrato in possesso della passaporta, ma sono sicuro che c'entri quella sua ricerca. Ah, ecco laggiù il sentiero. Di qua. Ma perché sua moglie cercava tracce di una magia perduta, signore? Miriam voleva capire come mai una magia così potente fosse scomparsa. Parlava sempre del bene che avrebbe potuto fare. Ma la magia è come ogni altro potere. Ciò che conta davvero è chi sia a controllarlo. È ghiaccio. Non fa abbastanza freddo qui. Deve essere opera di un incantesimo. Volevano bloccare questa strada. Mostrami il risultato del tuo lavoro con la pacchetta. Mira al centro. Eccellente! È stato un po' più scomodo del previsto. E' stato un po' più giù. Lassù! Ci siamo! E' poco più avanti! Tieni di forte! Preparo! Ci siamo quasi! Perché costruire una cosa del genere qui? Per ottenere la segreta, sospetto! La passaporta ci ha portati qui per... Viamo un'occhiata in giro, vediamo se c'è qualcosa di strano! Professore, qui c'è un intaglio murale! Forse il nostro ospite era un veggente! Interessante! Professore, questa statua! Forse questa era casa sua! Un'altra parete di pietra cristallizzata. Ma cosa starà bloccando? Cos'è? Professor Figg! Che strano! Perché farà apparire qui quella pietra cristallizzata? E come fa a esserci dietro una stanza? Una stanza? Io non vedo niente! Quel bagliore! È come quello sul contenitore della passaporta! Un nome di meridino! Cosa? Per Godric! Dove siamo? Non ci credo! Scusi! Ma non può essere! Solo un attimo, eh? Benvenuti alla Gringot, la banca dei maghi! Camera blindata 12, immagino! Precisamente! La chiave? La chiave di sua moglie! Oh, sì, ma certo! Da questa parte! Stammi accanto! Dopo di voi! Tenete le mani nel carrello! Se non volete perderle! Quante camere blindate ci sono qui? Centinaia! In realtà avrete l'occasione di vederne diverse strada facendo! In questo momento ci troviamo sotto l'adio principale! Queste camere sono le più recenti! Ci sono molti altri ingressi privati alla Gringot? Tutt'altro! Un servizio del genere riservato solo a chi è molto ricco o molto potente o entrambe le cose! Prendete un bel respiro! Cosa? Quella cascata lava via tutta la magia! È una misura di sicurezza! Conosce già la cascata del ladro? Di nuovo? Quelle che vedete qui sono le camere inferiore quando scenderemo! La camera blindata 12 fu costruita poco dopo la fondazione della Gringot, oltre quattro secoli fa! È nel cuore stesso della banca! Mettetevi comodi! C'è molta strada da fare! Camera numero... Camera 12! Ah, che giornata! Prego, avanti! Professore, il bracciale della guardia emetteva un bagliore! Come il contenitore della passaporta! No, più scuro! E ho visto uno uguale sul collare del drago! Che cosa dite? Ci stavamo chiedendo chi fosse quel colli! Hai compito di sorvegliare la parte più antica della banca! Ormai non ci va quasi più nessuno! Eccoci qua! Quando è stata l'ultima volta che sono entrati qui? Sono ormai secoli che un goblin fa la guardia a questa scrivania! In tutto questo tempo, nessuno l'ha visitata! Ah, fino a oggi! Ah, freddo! Grazie dell'aiuto! Professore, cosa dovremmo cercare, secondo lei? Non saprei! Signore, se lei potesse... Le mie istruzioni erano di far entrare il possessore della chiave della camera blindata 12... Un attimo! Chiudere la camera! Buona fortuna! Professore? Questa non me l'aspettavo! Fammi riflettere! Deve esserci qualcosa per... Reveglio, forse! Reveglio? Sì, un incantesimo di rivelazione, ora o mai più! Vediamo cosa ci sfugge, eh? Prepara la bacchetta e concentrati! Reveglio! Lee, ho visto qualcosa! Avvicinati un po' e riprova! Una porta! Beh, è un inizio! Ecco un altro di quei simboli! Non è che per caso vedi un modo... Sì, professore! Il simbolo brilla proprio come quello sul contenitore della passaporta! Se ciò che vedi ci aiuterà a proseguire, potremmo essere vicini a scoprire il segreto di questa camera! Fai strada tu! Lumos! Questa non è una normale camera blindata! Temo che l'uscita dovremo sudarcela! In che senso dovremmo sudarcela? Penso anche questa sia una specie di prova! Sì, ma ignoro quale ne sia lo scopo! Stammi accanto! Se va male, non potremo smaterializzarci per uscire! Non dalla Gringot! Vedo qualcosa più avanti! Cos'è? Ancora quel bagliore, ma... A terra! Lumos! Che è successo? Mentre mi accostavo al bagliore, mi è sembrato che il suolo sotto i miei piedi vorticasse! Stai bene? Sì, signore, sto bene! Hai fatto qualcosa che ha cambiato il pavimento! Quella statua... Quale statua? Vedo una statua, o meglio, il riflesso di una statua nel pavimento! Reveglio! Immagino sia questo che hai visto riflesso sul pavimento! Sì, il riflesso è ancora lì, ma la posizione delle statue non corrisponde! Un attimo, quando ha cambiato posizione, il riflesso si è girato verso la luce! Mmm, forse dovresti lanciare Lumos! Lumos! Ben fatto! Ora il riflesso si sta girando verso di me! Segue la luce, quindi! Attenzione! Protetto! Alto! Sentiretto! Del mio! Del pulso! Del mio! D-Tributo! L-Tributo! Eclodo! Descendo! D-Tributo! Del pulso! Vim! Expulso! Stammi accanto! Lumos! Professore! Professor Fig! Professore! Dov'è finito? Si mette male. E ora dove dovrei andare? Che succede? Le tracce magiche mi stanno guidando da qualche parte. Reveglio! Lumos! Ah, è qui che volevano portarmi. Di nuovo quel bagliore. Reveglio! Dovrò cavarmela senza alcun aiuto. Lumos! Temo di non avere altra scelta. Se voglio uscire da qui, dovrò combattere. Procedo! Procedo! Procrego! Stupetitzi! 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 Procrego! Stupetitzi! 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 Fa come me. È tutto pronto? È nascosta bene? Fin troppo. Mi chiedo se il percorso che abbiamo creato... ...sia impossibile da seguire? Solo per coloro che non vedono le tracce della magia antica. E io le vedo. Poter vedere ciò che gli altri non vedono non basterà, Percival. A chi affronta questo cammino affidiamo dei segreti potentissimi e conoscenze che altri faranno di tutto per avere. Sì, e se abbiamo ragione, Charles, la strega o il mago che supererà le prove meriterà di ottenere quella conoscenza e quindi la responsabilità che ne deriva. Abbiamo fatto il possibile. È questo che vedi? Il bagliore che li circondava? Sì, signore. Stupefacente. Posso vedere la magia? Tracce di magia antica per la precisione. Miriam ha sempre saputo che questa magia era reale. Ma non ha potuto... Miriam e forse anche George sono morti mentre cercavano un sapere assopito da secoli. E pare che sia tu la chiave per capirne il motivo. Sembra tutto molto diverso rispetto a com'era un attimo fa. Arriva qualcuno. Chi erano? Non lo so. Ma signore, lei non dovrebbe trovarsi qui? Proprio come pensavo. Ranrok. Sembra proprio che la mia reputazione mi preceda. Pensavo che nessuno sarebbe venuto alla camera blindata di Rackham. E tu perché sei qui? Questo non ti riguarda. Basta che mi consegnate quello che avete trovato qui e metteremo una pietra sul passato. Signore, loro avevano la chiave. Scegli con cura le tue prossime parole. Io... Io dico solo che le istruzioni per la camera blindata 12 erano chiare. Signore, devo proprio insistere. Posso far entrare solamente chi è in possesso della chiave. e lei non... Non ho pazienza per i traditori. Ora... Dove eravamo? Io non ti darò niente. Beh... Allora forse il tuo giovane amico sarà più collaborativo. non ti farò nessuno. No! 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 Non ti farò nessuno! No! No! Ah! No! 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 So come uscire! Professore! Sì, signore. Non ho mai visto un goblin tanto potente. Sembra che la mia magia non lo scalfisca nemmeno. Ma dove siamo? Eh, non può essere. Chi ha preparato il pensatoio, il medaglione e il modo per raggiungerli? Voleva che qualcuno con la tua abilità arrivasse qui. Vieni alla cerimonia di smistamento. Mi rendita, cosa succede? Sudota l'arra è la stradale in una squadra di rispetto speciale che! Oggi è la scura appassionale! N Subsidiない Sahaja Grazie a tutti.